Mi manda una bottiglia di rum con un ghiaccio e due bicchieri, per favore. Mille grazie. Possiamo solo... solo modificarlo. Non solo con qualche nostro gioco, per esempio. Solo che adesso nel 78 si è capito, si fa presto a dire leninismo, leninismo, leninismo un par di coglioni. Ma com'è che non capite che facendo così fate solo il gioco del potere? Ma dai, Piero, mi sembri un burocrate di botteghe oscure, storicamente il riformismo non ha mai pagato. Ah, perché invece ha pagato il blanchismo, il nichilismo e l'anarchismo, ma va. Ma leggete Marx però, leggetelo sul serio. Insomma, in questo momento storico, la lotta armata è perdente. E secondo te cosa bisogna fare? Aspettare il culo per aria mentre i fascisti e i carruva ci massacrano? E quando arriverà il momento storico giusto per farli fuori? Quando i rivoluzionari riusciranno a muoversi in questo paese come pesci nell'acqua. E cioè quando questi che sono solo dei momenti emergenti saranno collegati con le masse. E quando sarà in atto la rivoluzione? Vale a dire mai. Dobbiamo fare qualcosa. Bisogna convogliare quest'acqua, con la violenza o con qualche altro mezzo. Ma il mezzo? Il mezzo è quello di lottare senza cadere nella strategia della provocazione. Che fate? E' noi babbo? Vuoi ballare? Ma no. Finalmente quando c'è tuo padre si può parlare di cose serie. Ma che cazzo vuoi che ne sappiano questi di cose serie? Andate ragazzi, andate a ballare, bravi. E non rompete i coglioni. Essere soltanto se stessi ed esserlo ancora di più nella misura in cui gli altri ti vogliono. Ma è una felicità che non dura a lungo. Sbattiamocelo sto calendario e restiamo così, fuori dal tempo. Io sono una naufraga felice in un'isola deserta. E io sono l'assediato nella torre. Fra poco saremo assaliti. Io però chissiera proponerle, non so se ustedes querrán, perché no todos están de acuerdo, pero el viernes en la playa de Levante se hará una ceremonia buena, no estrictamente legal. È il voodoo? Sì, usted lo conoce? Si chiede? No, no, grazie. Piero, ma perché non vuoi? Tu mi hai sempre detto che è un'esperienza molto importante. Ah, importante? Certo. Ma il voodoo in cui ho partecipato io era vero. Questo è soltanto uno spettacolino per i turisti. Grazie.